Pompei è uno scrigno di tesori e non tutto si è rivelato in tutta la sua bellezza, ancora tanto, tanto materiale deve poter emergere. Noi abbiamo finanziato nell'ultima legge di bilancio nuovi scavi in tutta Italia ed una parte importante e consistente di questo stanziamento è destinato proprio a Pompei. Mi ha fatto molto piacere quando il direttore del Parco archeologico di Pompei ha ricordato che mai come in questo momento sono attivi tanti scavi nel sito di Pompei, possiamo dire quasi un record degli ultimi decenni. Poi però stiamo lavorando anche su altri fronti, nei mesi scorsi il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ceduto al Ministero della Cultura lo spolettificio di Torre Annunziata dove nascerà un grande museo proprio capace di raccogliere tutti questi reperti. Senza la tecnica costruttiva, in particolare senza l'opus cementitium degli antichi romani, non avremmo nel Pantheon, nel Colosseo, nelle Terme di Caracalla e qui a Pompei possiamo capire in diretta come funzionava un cantiere antico. Vediamo le tegole accatastate, i mattoni, gli attrezzi lasciati qui, i conteggi sui muri con carboncino probabilmente relativi allo stesso cantiere. Poi interviene l'eruzione del Vesuvio e tutto si ferma e possiamo capire in particolare come costruivano i muri. Probabilmente, e questo è il risultato di una collaborazione con l'MIT di Massachusetts, con la calce viva, dunque ancora non mescolata con l'acqua, viene messa in opera insieme agli altri inerti, materiale costruzione, diventa molto caldo nel momento in cui si mescola con l'acqua e questo consente di costruire in pochissimo tempo un muro. E questo ci spiega poi perché sono riusciti a costruire questi grandi anfiteatri, acquedotti, altre opere che vediamo in tutto il Mediterraneo antico. Dunque la piccola città di Pompei ci aiuta a capire il grande impero romano. Grazie a tutti.